Grazie a tutti. Grazie a tutti. Per me è un piacere poter essere tra gli artisti che hanno collaborato e che compariranno su questo sito. Mi raccomando, continuate sempre a proteggere la musica, soprattutto qui appunto in Italia, e a seguire sempre i vostri gusti musicali, i vostri piaceri. Non fate che la musica muoia, perché ci sono tanti artisti che meritano, tanti artisti che hanno una sensibilità molto forte ed è bello proteggerli sempre e mandarli avanti. Un bacione da Davide Pappasidro. Ciao!